Durante la mia vita qualche fotografo mi è capitato di conoscerlo, ho conosciuto fotografi che stavano per iniziare, ho conosciuto fotografi mediamente affermati, ho conosciuto anche dei grandi fotografi. Allora a un certo punto mi è venuto in mente, di questi grandi fotografi che ho conosciuto, quali sono le caratteristiche che ho visto in loro che li accomunano, che sono all'interno di ognuno di loro? Ho provato a pensare a questo e ho trovato cinque cose che questi fotografi rispecchiano in tutti i loro profili. La prima è l'umiltà, l'umiltà perché si percepisce in loro che non hanno bisogno di farti vedere quanto sono bravi, intanto perché sono consapevoli di esserlo ma allo stesso tempo sono consapevoli di poter imparare, di potersi migliorare. Mi è capitato una volta in Islanda di trovarmi in una hot tub con Chris Barkard, se non lo conoscete andatevelo a vedere, è un grandissimo fotografo e ti trovi a fare un bagno caldo con uno dei fotografi più famosi al mondo. È chiaro che cerchi di farci due chiacchiere e ti rendi conto veramente della persona che hai davanti e che è di un'umiltà incredibile, ci siamo messi a parlare di fotografia come se io fossi qualcuno che lavora con lui. A un certo punto mi ha detto ti faccio vedere le foto che ho scattato oggi, ha preso il telefono e me le ha mostrate e non mi ha detto guarda che belle foto, addirittura mi ha chiesto cosa ne pensi. Cosa ne pensi da un fotografo che di certo non ha bisogno dell'approvazione mia e dell'approvazione di nessun altro, ma comunque mi ha chiesto cosa ne pensi perché voleva il mio parere sulle sue foto. Questa è una caratteristica che ho trovato in molti grandi fotografi, non hanno bisogno di essere sbruffoni, di farti vedere il loro valore, anzi sono aperti alla conversazione, sono aperti a parlare anche delle loro fotografie cercando di migliorarle. Un'altra caratteristica che ho trovato in molti grandi fotografi è il non aver paura di sperimentare, non aver paura di provare qualcosa di nuovo anche col rischio di fare una cazzata, di fare qualcosa di sbagliato o qualcosa di brutto, ma il fatto di poter continuare a sperimentare, cercare di spremere l'attrezzatura, spremere la propria creatività è qualcosa che li fa migliorare continuamente. Nonostante non sempre quello che provino riesca nell'intento, riesca ad essere come lo avevano pensato, ma comunque provano, provano continuamente, sperimentano cercando nuove tecniche, cercando nuove prospettive, cercando di migliorare se stessi, cercando di fare fotografie diverse. Quindi la sperimentazione è sicuramente una caratteristica che un grande fotografo deve avere. Caratteristica che tutti questi grandi fotografi hanno è l'ossessione. Sono ossessionati dalla fotografia, non tanto dal loro lavoro, dalla fotografia. Nel mio ultimo viaggio che ho fatto a Londra ho conosciuto un fotografo, un ottimo fotografo, anche abbastanza famoso sul web. Eravamo entrambi ad un evento, solo che io ero lì solo per partecipare all'evento, lui era lì proprio a lavorare, stava realizzando delle fotografie per l'evento. Nel momento in cui c'è stato un attimo di pausa e abbiamo mangiato qualcosa, c'era un rinfresco, ho visto lui che ha preso il suo computer e si è messo su un divanetto. E lì per lì ho pensato, dovrà già consegnare le foto. Mi sono avvicinato a lui per fare due chiacchiere e ho visto che invece aveva aperto Lightroom e stava editando una foto di tutt'altro genere, un viale alberato. E gli ho chiesto, ma devi consegnare qualche lavoro, per quello lo stai facendo ora in questa pausa? E lui mi ha detto, no, no, assolutamente. Sono appena tornato dall'Irlanda e volevo vedere le foto. Non vedevo l'ora di poter mettere mano sulle foto. Quindi aveva mezz'ora libera e invece che mettersi a mangiare ha aperto il computer, si è scaricato le foto del viaggio da cui era appena tornato e ha cominciato a lavorarle perché era curioso di vedere cosa aveva combinato, voleva vedere quelle foto, voleva editarle. Quel ragazzo è ossessionato alla fotografia. Il momento libero fuori dal lavoro è comunque un momento da dedicare a quello. Il momento libero lo passo a guardare foto che ho fatto. Non avere paura del giudizio degli altri. Non avere paura del giudizio degli altri perché possiamo metterla come volete. Qualcuno mi dice, io scatto per me stesso. Sì, è vero, ma la fotografia in quanto arte viene fatta per essere mostrata, viene fatta per mostrare qualcosa di bello, viene fatta per documentare qualcosa, viene fatta per far ricordare qualcosa. Quindi comunque sono immagini che per quanto noi possiamo farle per noi stessi poi vogliamo mostrarle. Questi grandi fotografi non hanno paura del giudizio, nonostante siano aperti ad ascoltare, e qui torno al primo punto di cui ho parlato, siano aperti ad ascoltare quello che gli dicono gli altri, non hanno paura del giudizio degli altri. Perché comunque quello che hanno fatto in quel momento quella determinata immagine l'hanno scattata con un'idea, l'hanno scattata con uno scopo che poteva essere anche solo sperimentare, quindi consapevole del fatto che poteva sbagliare quella foto, ma quella foto che magari viene sbagliata e agli occhi degli altri risulta sbagliata, risulta brutta, risulta inefficace. In realtà è frutto di qualcosa che lui ha fatto perché ha provato a fare qualcosa e quel qualcosa lo ha fatto crescere in qualche modo. Quindi sono sempre aperti ai pareri, ai giudizi, alle idee degli altri, ma non ne hanno paura. L'ultima caratteristica che mi viene in mente che accomuna dei grandi fotografi è il guardare fuori dall'obiettivo. Vi racconto un ultimo aneddoto e poi vado a mangiare, ma così riesco a farvi capire meglio questa cosa. Per me molto spesso guardare fuori dall'obiettivo significa godermi il momento, godermi il posto, godermi la situazione e non rimanere solo incollato alla fotografia. Ma in questo caso lo intendo in modo diverso. Mi è capitato diversi anni fa di essere su una pista da sci a fare delle fotografie durante l'allenamento della nazionale di sci statunitense. Io ero non alle prime armi, ma di sicuro non ero ad un livello fotografico altissimo. Accanto a me c'era il fotografo ufficiale della nazionale. Quando una nazionale di sci si allena non fa 8.000 discese, ne fa 4-5, poi basta. Per me ogni discesa era l'occasione per cercare di fare più foto possibili. Le prime 2-3 discese le fanno vestite con la giacca per non prendere troppo freddo. Dopo che hanno provato la pista si spogliano, si mettono in tutta la gara e fanno quelle vere. Le discese con la giacca addosso erano momenti di prova, dovevo provare quale curva era meglio a fotografare, quali tempi, quale diaframma, quale prospettiva, come era la luce. Guardavo questo fotografo a 10 metri da me, lui aveva i suoi treppiedi con il suo super tele da una parte e lui guardava con gli occhi la discesa. Ok, lo fa la prima volta, vabbè. Lo fa anche la seconda, lo fa anche la terza, e dentro di me penso, ma le foto le fa o no? Quindi ho deciso di avvicinarmi, abbiamo scambiato 4 chiacchiere, e a un certo punto glielo ho detto, io ho già fatto 400 foto, vedo che tu non stai scattando. Lui mi ha detto, a me non serve portare a casa centinaia di foto mediocre, io devo portarne a casa 4 o 5 perfette. E per fare 4 o 5 foto perfette, io ho bisogno di vedere con gli occhi quello che fanno. Non voglio rimanere concentrato con l'occhio dentro la lente, dove magari per seguire mi perdo alcune sfumature. Io mi guardo 3 o 4 discese di quello che fanno. Con gli occhi vedo da dove passano, vedo come si muovono, vedo come si comportano, e nel momento in cui fanno la discesa giusta, io sono pronto a fare la foto. È importante la fotografia, in qualsiasi genere, ma ricordiamoci di guardare anche fuori dall'obiettivo. Ricordiamoci di osservare con i nostri occhi la situazione e cercare di comprenderla prima di effettuare lo scatto. Sono solo 5 cose, non ho dubbi che ce ne siano tantissime altre, ma questi sono 5 punti che nell'arco del tempo, nell'arco delle persone che ho incontrato, mi sono rimasti in testa e che credo accomunino questi fotografi che in un modo o nell'altro sono riusciti a fare la differenza nel mondo dell'immagine. Tutto qui. 5 cose, ma veramente importanti.